Sono contenta di salutare tutti i giovani della Repubblica Ceca qui da Cracovia e penso a voi perché sono sicura che anche voi se non siete qui fisicamente siete qui con il cuore e dunque questo è molto bello sentirci in comunione profonda. Qui ci sono giovani di tutto il mondo e dunque anche voi siete qui. Vi auguro di essere portatori di speranza e di gioia dappertutto dove siete. Un abbraccio grande a tutti. Saluto cari giovani della Repubblica Ceca, sono qui, siamo qui tra tutti i giovani e un grande abbraccio a tutti quelli che non avete potuto venire, soltanto sentire che siamo con voi e che vi ricordiamo. Grazie, andiamo, ci vediamo. Ciao per i suoi. A greeting to all young people of the Czech Republic. We are gathered here young people from all over the world to celebrate the gospel message with the style of Don Bosco. The year of mercy is an invitation for each one of us. First, to discover how much God loves us. Secondly, to be optimistic enough to share God's love with others. may God bless you, may God bless your country, keep going on, bye bye.